Si chiama Iciu, bravi fanti de spesa, ed è un concorso per titoli riservato agli studenti di 10 istituti superiori di secondo grado della nostra provincia, obiettivo valorizzare le eccellenze scolastiche e promuovere fra i giovani le bellezze del nostro territorio. Al termine dell'anno scolastico, gli insegnanti di educazione motoria di ogni istituto segnaleranno 5 studenti che abbiano ottenuto, oltre all'usinghiede i risultati didattici, anche il raggiungimento di validi e obiettivi sportivi, coniugando quindi lo sport con il profitto scolastico. Il merito verrà sanzionato a fine anno scolastico. Nel consiglio di classe ci sarà una valutazione didattica, gli insegnanti di motoria valuteranno i loro meriti sportivi e sforneranno loro i 5 nominativi. È un'iniziativa giusta anche perché vuole valorizzare non solo le eccellenze del territorio scolastico, ma anche tramite i battelier, le tratte del nostro bellissimo golfo e anche le bellezze della nostra spezia. Ai 50 alunni prescelti, dai rispettivi consigli di classe di ogni istituto, verranno assegnati biglietti omaggio su tratte gestite dai battelier del consorzio Golfo dei Poeti. Il concorso, patrocinato delle prime quattro edizioni dall'Acqua Village di Cecina e dall'autorità portuale, ha ritrovato nuova linfa grazie a Giovanni Grazzini, presidente di Monbat Italy, azienda che opera nel campo delle biotecnologie. La cosa simpatica è che si chiama Ciubravi Fanti Despesa, perciò diciamo che cerchiamo questi ragazzi che si impegnano chiaramente nella scuola ma che riescono ad avere successo anche nello sport. È esteso a parecchi, di modo che avremo la possibilità di integrare un po' tutti quelli che fanno sport e poi l'opportunità anche tramite i battelier di valorizzare il nostro territorio, perciò questa per noi del Pezzini è una cosa molto importante e di soddisfazione, sicché appena il mio amico Piero Giorgio me ne ha parlato, lo raccolta con entusiasmo, è una cosa che riguarda il nostro territorio e sicuramente importante. Lo sport è anche scuola di vita? Io penso che lo sport sia importantissimo, perché lo sport ti insegna le regole, ti insegna a comportarsi e poi è una cosa che chi ha fatto sport sa, ti insegna avere lo spirito di sacrificio.